Lui è Leo, è il labrador di 4 anni e mezzo da ricerca e soccorso della squadra di Pescara che ieri ha trovato la piccola Giorgia. Io sono Matteo, conduttore cinofilo da ricerca e soccorso di Leo. Lui è Liborio, comandante della squadra di Pescara. Ieri ci hanno dato la segnalazione che sotto una palazzina collata lì, una casa a due piani di collata Pescara del Tronto, c'erano due bambine disperse. Immediatamente ci siamo attivati e Leo subito, appena partito, in meno di 40 secondi ci ha dato una segnalazione forte e decisa. Così con i colleghi del reparto mobile di Senigallia, i vigili del fuoco, abbiamo scavato lì a mano per nove ore e alla fine siamo riusciti a ritrovare lì sotto e a estrarre viva la bambina. Grande emozione. Grande emozione di tutto. Grazie a Leo. Grazie a Leo. Grazie a Leo. Grazie a Leo.